Quarto appuntamento per gli aperitivi letterari, servizio di Valeria Ganadu. È stato lo scrittore sassarese Cristiano Idini l'ospite del quarto appuntamento dell'aperitivo letterario a Sassari, ospitato ieri nel padiglione Tavolara. L'autore, con il suo libro Magistrite, ha proiettato il numeroso pubblico presente in un periodo contemporaneo, ripercorrendo i corridoi del Palazzo di Giustizia della città, raccontando la vicenda di Enrico che ha dato tutto se stesso per diventare magistrato, per applicare i principi in cui crede e fare la differenza. Sarà però un complicato caso di cronaca nera e delicati equilibri dall'interno del tribunale che metteranno a dura prova le sue certezze. La formula dell'aperitivo letterario Sassari, iniziativa ideata e realizzata dalle sassaresi Daniela Nurra, Barbara Usai e Rita Marongiu, segue il filo tracciato dai reading party new yorkesi. Per i primi 30-35 minuti, i partecipanti, in silenzio e con sottofondo musicale, fanno una lettura di un proprio libro portato da casa, anche sorseggiando un bicchiere di vino. Poi, chi vuole, può condividere brevemente il proprio pensiero, dispensando consigli di lettura o anche leggendo una propria poesia. A seguire, quindi, la presentazione di un libro e di uno scrittore attuale e, infine, l'immancabile aperitivo a buffet. L'iniziativa, già tre volte sold out, dopo la pausa estiva, riprenderà a settembre.